Gaetano Vinci candidato per la Camera dei Deputati alle elezioni politiche del 2013 della vista della destra, unico candidato fasanese, senti questa responsabilità? Senti, prima di parlare di unica candidatura io attenderei i risvolti della questione del PTL di Antonio Scianaro. Per quanto riguarda la responsabilità non la sento più di tanto anche perché non sono in una posizione tale da dover essere eletto sicuramente, sarò decimo della lista della destra e pertanto la mia è una semplice candidatura di servizio a disposizione del partito. Come vedi la situazione dopo un passaggio per la Meloni? Tu si tornava all'ovide con la destra? Senti, io condividevo la posizione di Giorgia Meloni di indicare attraverso quello che è l'istituto delle primarie quello che doveva essere il candidato premier o il leader della coalizione del centro-destra. Sfumate le primarie, ovviamente sono dovuto ritornare sui mie passi ritornando laddove non sono mai uscito nel mio partito anche perché l'indicazione di sostenere Giorgia Meloni mi era stata data comunque da un breve contatto telefonico con Nello Musumeci, il vice segretario nazionale della destra che mi lega da un'affettiva amicizia. Il tuo impegno invece nel fasanese è schierato per il sociale, sei responsabile della Di Consum, come vedi la situazione sociale fasanese in questo periodo di crisi? Per quanto riguarda la situazione sotto il profilo sociale più affasano, con molto rammarico devo dire che è drammatica. È sotto gli occhi di tutti la chiusura delle aziende, è sotto gli occhi di tutti i licenziamenti, le casse integrazioni, le mobilità. Basti pensare che nel periodo natalizio sono state presentate all'ufficio dei servizi sociali oltre 700 domande per l'assistenza economica, quindi parliamo dei cosiddetti voucher per andare a fare la spesa. Questo è sintomo appunto del malessere e del disagio che attualmente il cittadino fasanese, ma non solo, sta vivendo in questi periodi. Cosa può fare il Comune di Fasano per aiutare il più possibile queste famiglie? Date le ristrettezze economiche delle casse comunali, non dovute totalmente da parte del Comune ma dal Governo centrale. Oggi il Comune di Fasano a mio avviso può fare ben poco per i cittadini, per aiutarli non solo economicamente, anche sotto altri servizi, perché quando parliamo di welfare non parliamo solamente del voucher sociale per andare a comprare la pasta per mangiare, ma il welfare racchiude una grossa rete di servizi alla persona, quindi non parliamo solamente di servizi sociali, ma anche di disabili, di parecchie situazioni. Oggi con l'attuale situazione non credo che il Comune possa risolvere, possa fare moltissimo, perché ormai sappiamo bene i soldi che lo Stato devolve, manda ai Comuni sono sempre meno e sempre meno purtroppo sono i servizi che possiamo offrire alla città. A sinistra invece c'è la candidatura di Nicola Latorre, qual è la situazione della sinistra a tuo modo di vedere? La situazione per quanto riguarda il centro-sinistra francamente è un po' confusionaria, perché hanno fatto le primarie per le parlamentarie, c'era una candidata locale che per colpa a mio modo di vedere di dissidi interni è stata fatta fuori, si ripropone nuovamente la candidatura di Nicola Latorre al secondo posto nel Partito Democratico, credo che nulla sia cambiato dai cinque anni a questa parte. Io avrei puntato ad altro, avrei puntato soprattutto alla candidatura dell'assessore regionale Fabiana Amati, personalità comunque di spicco del centro-sinistra locale che sicuramente avrebbe tirato moltissimi voti per il Partito Democratico facendosi anche leggere laddove fosse stato inserito in una posizione o nel cosiddetto listino bloccato dove sono entrati personaggi che non sono della Puglia ma che saranno inseriti sicuri delle lezioni.